salve a tutti e benvenuti in un nuovo video oggi vi farò un po di inaudible leggendo un libro spero che vi piaccia il video a mezzetto always see delizio ita orifuri for the men orifuri orifuri oifuri oifuri orifuri oifuri coruga oifuri si, 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 attacca Grazie a tutti is sarà chiamate detto che mi fanno doorcare la visione stasso grazie 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 è un po' di più e quindi Sì. E' una volta in cuore E' un'altra cosa c'è E' una cosa più difficile di cuore È tipo di cameo Il vino gigantico Ecco E' un vino C'è un vino E' una cosa più difficile Sì, sono ok un po' di più e tu sei la parte quella non è un po' di più un po' di più un po' di più sono stai parlando due se pare qui è piccolo un po' di più un po' di più un po' di più non è rilevo un po' di più oltre qualcosa che vediamo la fronte del peggio le peggio e la torna è rosa e vogliamo sono pericolato il pizzer che chiamato il sale un piano questo non 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 costruire Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!